Salve gente! Bentornati qui con noi da Joe e Ale. Siamo qui oggi per scoprire insieme gli ultimi aggiornamenti rilasciati ieri sera nella diretta live di Diablo 4. Andiamo subito. Allora, vedendo la live stream, nella prima parte del video fanno una presentazione di quella che è la stagione del sangue e tutte le cose che abbiamo detto nel video precedente che potete andarlo a recuperare, andatevelo a vedere e parlano di tutte le cose endgame nuove che ci saranno, nuove abilità, eccetera, eccetera, abilità vampiresche e tutto il resto. Quindi andatevi a vedere l'altro video per questa piccola introduzione che fanno nella live. Vediamo le cose succulente importanti che hanno detto. Allora, questi sono i cinque punti fondamentali dove loro si sono soffermati in questa nuova update che hanno fatto. Ovvero, sulle resistenze elementali che saranno cambiate, adesso vi spiegherò come. Fare in modo di rendere gli oggetti unici molto più impattanti sulla nostra build e sul nostro personaggio. Fare degli aggiustamenti alle classi, soprattutto riguardo ai problemi che ci sono stati e i feedback dei giocatori. Che hanno detto che certe classi non andavano bene, certe sì, loro hanno riconosciuto questa cosa. Hanno cambiato, non sistemato, perché poi su questa cosa parleremo. Il sistema del danno, critico e vulnerabile soprattutto. Su questo apriamo un grandissimo punto interrogativo. E poi altri aggiustamenti che vedremo nel corso di questo episodio. Ma andiamo avanti partendo, penso, con le resistenze elementali. Qua ci stanno spiegando come funzionavano le cose in questa stagione, cosa che noi già sappiamo. Però, in parole povere, la cosa importante è che l'armatura riduceva sia il danno elementale che il danno fisico insieme. Cioè, era la stessa cosa. E non aveva un cap, non si fermava. Cioè, potevi avere questa resistenza praticamente all'infinito, come abbiamo visto in molte build. E se tu avevi, per esempio, il 20% di resistenza al veleno, ottenevi il 20% in più. Tu avevi il 36% in più di resistenza al veleno. In questo caso lo specifico qui. Quindi, questa cosa non gli piaceva e l'hanno modificata. Poi qui dicono, come funzioneranno le cose invece nella stagione del sangue? Non sarà più moltiplicativo la combo, per farvi capire. Ma sarà additiva. Quindi, se tu hai un 20% di resistenza al veleno, e tu ottieni il 20% in più, tu adesso avrai il 40% di resistenza al veleno. Le resistenze adesso avranno un cap massimo del 70%, quindi non si potrà andare oltre, se non arrivare all'85% con vari effetti dati da altri oggetti, che spiegheranno più avanti. Adesso, importantissimo, l'armatura ora dà solo resistenza al danno fisico, al physical damage. Prima era, invece, come abbiamo detto, su tutti e due, sia danno alimentale che danno fisico. Invece ora solo al fisico. Invece, gli anelli e gli amuleti avranno tutte le resistenze nelle loro statistiche, in modo da compensare quello che adesso è il danno alimentale, che non ce l'hai più dato dall'armatura, la protezione. Adesso ce l'avrai data dagli amuleti e dagli anelli. Infatti, qua ci dice, potrai ottenere una resistenza specifica tramite l'equipaggiamento, l'albero delle abilità, i paragon, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, quale sarà l'impatto generale che avremo? Le resistenze avranno un'importanza maggiore all'interno del gioco e saranno più complicate. Loro le descrivono come un puzzle da risolvere. Perfetto. Quindi, quale sarà l'obiettivo finale di tutto questo? I giocatori avranno la possibilità di raggiungere il cap massimo del 70% raggiungendo il livello 80% per la maggior parte delle resistenze. Per quanto riguarda questo puzzle da risolvere come la mettono loro, ci dicono utilizzate comunque l'equipaggiamento, i paragon, ieri siri, come ci hanno detto prima, per raggiungere il cap della resistenza. Poi qua è una frase mitica, vabbè, che riguarda il viaggio e non la destinazione, eccetera, eccetera. E comunque ci dicono, ieri siri avranno un grande impatto anche sulle resistenze elementali soprattutto. Quindi, di utilizzarli avranno anche più senso utilizzare questi siri, a differenza di prima che ogni tanto uno usava soprattutto per l'esperienza. Adesso avranno un impatto più importante. Perché come vediamo qua, aumenta la resistenza al veleno del 30%, quindi di tanto, cosa importante. Ok, parliamo adesso invece degli unici che ci dicono che gli unici erano una cosa un po' così, non piacevano molto ai giocatori, non erano abbastanza entusiasmanti e soprattutto il fill del drop non era proprio positivissimo, soprattutto se uno aveva una build specifica che si voleva costruire. Adesso hanno detto che ho fatto passi da gigante e avremo questo aggiornamento sui unici che andremo a vedere. Qua per esempio ci fanno degli esempi, scusate il gioco di parole, e ci dicono, per esempio, incrementare la durata del tornado non è una statistica che si può mettere, ma adesso con questi pezzi unici si potrà trovare questa statistica sul pezzo. Oppure il bonus del danno da fuoco normalmente rolla tra il 15 e il 25%, ma su questi unici invece potrà droppare dal 30 al 45%. Oppure, di nuovo, il cooldown reduction delle nostre abilità di solito non rolla sulle armi, le armi non ce l'hanno il cooldown reduction, mentre su questo unico che troveremo lo potrà avere, eccetera. Fanno degli esempi così, quindi effettivamente questi unici, se li trovi, sono effettivamente molto forti. Very strong. Andiamo, qua ci fanno degli esempi su alcune armi, questo è quello un po' più eclatante, no? Qui prima avevamo più 15% di danno sui nemici bruciati, che hanno bruciatura, e qua invece sull'oggetto unico diventa il più 52% di danni ai nemici bruciati, che poi può variare dal 42 al 70, signori, questa è tanta roba. E vabbè, più 4 su, penso, questa abilità, io adesso il barbaro non l'ho mai giocato, ma penso sia un'abilità, e più 4, insomma, è una bella statistica. Quindi, il nostro danno adesso, e segnatevi questa cosa che sto dicendo, aumenta principalmente grazie agli unici, e non grazie ad altre statistiche che adesso andiamo a vedere. Qua ci dicono adesso i cambiamenti delle classi che hanno fatto, e ci dicono, non abbiamo fatto un cambiamento a livello generale, ma abbiamo fatto cambiamenti specifici a seconda di ogni classe, a seconda di quello che ha detto la community, che non andava bene. E dicono poi, oggi ci saranno solo alcuni esempi, non faremo una lista di tutti i cambiamenti, probabilmente la rilasceranno più avanti quella. Poi, qua ci stanno facendo vedere cosa dropperanno i vari boss che hanno aggiunto, i boss della stagione, e qui non è importante fare l'elenco, possiamo vedere tutti gli oggetti che dropperanno tutti questi boss, da Grigiore, appunto, Varshan, che cosa dropperà, Lord Zir, la bestia di ghiaccio, che è uno di quei due nuovi boss, tre, anzi, quelli principali. Duriel, che è il boss proprio stagionale, quello più importante di tutti che si farà in the game totale, che dropperà, appunto, gli oggetti, i famosi oggetti super unici, extra rari, mitici, limitabili, che ancora non abbiamo visto. Speriamo, però, loro ci dicono, questi oggetti li vedrete molto più spesso rispetto ad adesso. Beh, per forza, perché per adesso non abbiamo questi, quindi più spesso significa pure magari per loro che lo vedrete due volte invece che zero. Però, dai, penso che avranno incrementato il dropperate, se no non avrebbe senso. Eccoli qua, gli unici di cui parlavamo, che sono questi, e potete vedere tutti quelli a seconda delle classi che dropperanno. Qua stavamo parlando invece dell'aggiustamento delle classi, questo perché, loro stanno dicendo, durante già la live stream della stagione degli abietti, avevano notato che c'erano da fare degli aggiustamenti per delle builds che erano troppo performanti, che andavano oltre. E che comunque c'erano delle builds che sono fortissime, altre che rimangono invece sempre a un livello medio, e sta cosa non andava bene. E loro avranno sistemato queste cose con, soprattutto, dei buff, dei debuff e cose del genere. Questo ci stanno dicendo, anche perché per loro è importante, perché, da quello che si capisce qua, hanno intenzione di aggiungere nel futuro le famose classifiche. Allora, ragazzi, per quanto riguarda il necromante, hanno messo dei debuff sulla build delle ossa. Quindi hanno fatto questa nerfatura, per maggiori dettagli la potete trovare tutta sul loro sito o all'interno del build. Sì, perché non ci mettiamo a fare l'elenco specifico di tutti i cambiamenti, vi diamo solo le informazioni, così se volete andare nel dettaglio, andate a studiare bene. Anche perché io non ho giocato tutte le classi, quindi potrei sparare cavolate e non lo voglio fare. Però sappiate che hanno fatto un nerf su questa build. Per quanto riguarda, invece, il barbaro e il druido li hanno nerfati in positivo, quindi li hanno buffati, perché hanno, diciamo, aumentato il danno massimo da bonus di questa, penso, abilità al 100%. Quindi l'hanno aumentata al 100%. È sicuramente una cosa aggiuntiva e non va a levare. La stessa cosa per il druido, che l'aspetto di questa cosa, di questa abilità, che io non so cos'è, adesso è cappato al 200%. Quindi anche qui hanno fatto un buff positivo. Per quanto riguarda, invece, l'incantatrice, hanno sistemato, diciamo, un pochino questa abilità che veniva usata poco. L'incenerimento dovrebbe essere. Hanno ridotto il suo tempo da 4 a 2 secondi, ma il danno totale è rimasto lo stesso. Invece, per quanto riguarda quest'altra abilità, sempre dell'incantatrice, l'Enhanced Frozen Orb, abbiamo che adesso garantisce un danno addizionale, un'esplosione addizionale, sui nemici elite. Questa è una cosa che, comunque, è molto carina, che hanno sistemato sull'incantatrice, anche perché io gioco l'incantatrice e sono molto contenta di ciò. Poi loro qua ci buttano cacciara, perché all'inizio ci dicono, ok, il rogue è piuttosto normale, era tutto molto equilibriato, molto bene, però abbiamo deciso di fargli un buff perché non ci piace giocare questa classe. In parole povere ci hanno detto questo, e sta cosa non è per niente carina, però, pappè. Infatti, faranno probabilmente la maggior parte dei giocatori in rogue perché, ragazzi, è stato buffato tantissimo nonostante non avesse bisogno di buff. Però, cosa hanno fatto? Hanno, per esempio, mi faccio un esempio per farvi capire, no? Hanno incrementato questa abilità che ti dà un lucky hit, la percentuale di lucky hit di questa abilità, dal 35 al 50%. Il movement speed l'hanno messo, che te lo dà immediatamente il bonus di questo movimento, questa velocità di movimento, e altre cose. E comunque, hanno messo dei buff positivi molto a rogue, nonostante loro hanno detto, era una classe ben bilanciata, non c'aveva bisogno di grandi cose, però, gli piace giocare a rogue, adesso lo sono modificato. Potevano almeno non dirlo, ma va bene, facevano una più bella figura. La stessa cosa, signori, è successa, stessa para para, aspettate, vi metto un po' più avanti, con il druido, che ci dicono, era pretty good, però, comunque, gli abbiamo aggiunto qualcosina. Abbiamo dato un incremento sul danno passivo al 20%, sul danno attivo al 55%, gli hanno aumentato comunque tutta roba a potenza. Anche il necromante è stato comunque buffato, come potete vedere, tutti i minion che hai, io ripeto, non gioco il necromante, ma, più o meno, immagino sia così, i minion che puoi avere, gli è stato aumentato il danno attivo e tutte queste cose, ma penso che la caratteristica più importante che hanno aggiunto, per chi gioca, appunto, il necromante, è che adesso potranno utilizzare l'abilità Blizzard e tutti i maghi che fate diventare minions, e non solo quelli di ghiaccio. Quindi, buono, penso, per chi gioca il necromante, è una cosa aggiuntiva molto buona. Allora, veniamo adesso al succo della questione più succoso di questa live, che è il cambio dei danni da danno critico e danno da vulnerabilità. Qua ci dicono, durante la stagione degli abietti, danno critico e danno vulnerabile erano due cose differenti, che si potevano mixare insieme con una moltiplicatività, quindi i loro danni andavano a moltiplicarsi tra di loro, per avere dei danni bonus, che ammontavano a cose esorbitantemente enormi. Come vediamo qua, critical damage e più vulnerable damage insieme facevano un danno della miseria. Cosa avverrà invece nella stagione del sangue? Nella stagione del sangue, il danno critico, quello da vulnerabilità e quello da sopraffazione, saranno tutte cose differenti a parte, che avranno sempre dei danni bonus moltiplicativi, ma saranno cappati, quindi si potranno avere un massimo di vulnerabilità al 20%, il danno critico al 50% e la sopraffazione del 50%. Poi ci dicono, tutti i danni extra, dati dai bonus, di queste categorie, saranno invece di moltiplicativi additivi. E poi ci dicono, adesso sarà tutto meglio, secondo loro. Voi potrete dire, ma nerferanno tutto, quindi perché il nostro danno è diminuito tantissimo, il danno dato da queste statistiche, che poi erano le statistiche principali delle build più forti di questa stagione. Speriamo di no, probabilmente no. Loro hanno detto, no, non nerveremo tutto, ma sarà tutto bilanciato dagli altri aggiornamenti che abbiamo fatti. Per esempio, soprattutto hanno sottolineato sugli oggetti unici, che daranno delle statistiche che andranno a compensare questa riduzione del danno qua. Quindi, speriamo sia così, ma finché non giocheremo, non potremo appunto vedere effettivamente come è la situazione. Qual è l'obiettivo principale di fare questa cosa? È che vogliono che i giocatori possano investire sulle loro abilità primarie di danno e comunque trovare la propria build personale, customizzarla come vogliono, in modo da, non è che se io faccio una build personalizzata perché a me piace così, sono meno forte, ma proprio di un'ampiezza, di distacco da un'altra build enorme. Magari non è perfetta, ma comunque posso arrivare in endgame e fare le cose in endgame anche con la mia build personalizzata, senza, insomma, fare build troppo forti. Questo è l'obiettivo principale, cercare di equilibrare un po' tutto il gioco. Ci dicono qui che hanno aggiunto due nuovi glifi per ogni classe e qui diciamo abbiamo concluso la parte dell'aggiornamento che verrà fatto il 17 ottobre, mentre qua ci stanno dicendo cosa che vogliamo fare principalmente in futuro, vogliono aggiungere un, diciamo, un manichino d'allenamento per studiare le nostre build, vedere quanti danni facciamo, cosa carina. Poi qua parlano, vabbè, del BlizzCon, tutte le offerte con i soldoni, se ce l'avete, ve le potete comprare. Adesso c'è il BlizzCon, quindi potete comprarle. Un'ultima cosa interessante che hanno detto è che tutti i boss comunque di questa stagione verranno aggiunti anche nel mondo eterno, anche se non ho capito se fin da subito o più avanti, penso alla fine della stagione del sangue saranno aggiunti anche nel mondo eterno, penso almeno sia così. E questo è più o meno quello che hanno detto su questo aggiornamento. Ci piace, non ci piace, non si sa, io sono un po' scettica su questo abbassamento del danno critico e della vulnerabilità, però, ripeto, finché non giochiamo non potremo sapere. Speriamo che hanno sistemato il gioco e non l'abbiano distrutto totalmente. Ma, quindi, io direi che per oggi è tutto, come al solito vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e seguiteci per restare aggiornati su Diablo insieme a noi. Da Gio e Ale è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Comunque, signori, per chi vuole ho riassunto velocissimo del video e lo mettiamo qui, tra un secondo. Comunque, signori, per chi vuole ho riassunto velocissimo del video. in alto, qualcosa troppo in basso, e adesso è tutto sullo stesso piano. Ma chi sarebbe di aver seguitato la live!